buongiorno ragazzi buongiorno a tutti allora come al solito ma ok vediamo una cosa grazie a tutti allora iniziamo ragazzi dobbiamo fare accesso a xbox come si vede la live? cambiamo che tempesta da problemi attendiamo speriamo che vada tutto bene vabbè continuo ci siamo ragazzi minchia tutte ste cose devo accettare conferma registrazione del email e l'indirizzo utilizzato durante la creazione dell'account chiudi ma io non mi sono mai registrato chiudi chiudi allora ok aspetta un secondo ragazzi crea un collega account chiudi non mi interessa regola luminosità a 5 ok allora 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 innanzitutto dobbiamo trovare le impostazioni negozi negozi notizie non ci sono impostazioni non neanche non ci sono ma come sta a lasciare contenuti ma è assurda questa cosa raga gamer thug allora chi è xetori grazie mille per il like buongiorno buongiorno allora i più pedanti eroi della terra si sono riuniti per sconfiggere l'ame tutti gli eroi sono subito disponibili all'utilizzo sblocca abilità io qui viaggione tocca è benissimo ok impostazioni allora andiamo a vedere un attimo grafica media media ok applica impostazioni conferma gioco tieni premuto medita corsa tieni premuto ok perfetto sinistra salta scatto interagisci e ok attacco leggero attacco a distanza ok perfetto dopo vediamo dopo vediamo allora scalo totalmente la risoluzione in modo da prevenire che i frame scendono al di sotto del valore preselezionato mettiamo attacco 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 50% allora proviamo dai Almeno mettiamo normale Così almeno Lo vediamo ogni giorno di più intorno a noi Chi ha i poteri ne abusa Ma gli Avengers non erano così Non ne ho mai dubitato Penso che tutto sia accaduto per un motivo Forse è proprio quello che stavo aspettando Forse sono finalmente parte di qualcosa di più grande Michi come si vede la live? Aspetta basta un po' la sensibilità Impostazioni Mouse Sensibilità mouse La mettiamo a 4 4 4 per questa 4 per questa Ok a posto Dovremmo star bene Eh bro è figo regà Comunque questa cosa che devi tenere premuto per Che brutta animazione E' giusto 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 Abum Ucciderebbe se portassi a casa altri pelucci Eh ehm Siamo Hulk No Ah ok Non l'avevo visto Ecco il primo fumetto ragazzi Scusa la visuale non posso mettere un po' più a lontano Grafica 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 Motion blur Lo mettiamo a 0 Scusate ragazzi Eh bro Blume in potenza di luminosi Lo schermo Ok Schermo C'è la vedo troppo vicina La vedo Gioco Matchmaking Non ci interessa Normale Ok Distante Oh Non so come Minchia Potrebbero Ve lo far vedere È normale Modellare Com'è Però Visuale Vabbè Devo trovare gli altri Mi hai visto vincere al gioco Maledizione Tutto bene No Ho già questo numero Mi serve quello di Captain America per completare la serie Aspetta Se trovi dei doppioni Vuoi fare cambio Certo Certo Figo Ci vediamo dopo Andiamo Perché da lì vicino non poteva entrare Io sono Iron Man Io sono Iron Man Che figata Io sono Iron Man Siamo un po' No Questo è vuoto Ma quelli sono Oh cavoli quanti repulsori Oh cavolo È davvero bellissimo Ecco Torre Questa è Torre no? Non vado a raro Che atrocità è mai questa Ah Chiedo scusa Sei molto piccola È difficile vederti Non devi temere Dinanzi al figlio di Odino Anche se Ne comprendo l'istinto Buongiorno Antonio Buongiorno Grazie mille Cos'è quella geggio che tieni lì? Un raggio muone ad alta densità Il guantore Ci sto provando Ci sto provando Il primo amore di Tony Stark Per la barba di Odino Fa paura quasi quanto il suo proprietario Sei simpatico Sì lo so Ammira Una vera arma Che non necessita di migliorie Chi impugnerà questo martello se sarà degno Degna Possiederà il potere di Thor Esatto La differenza tra i giocattoli di Stark E la potenza di un dio Sì può darsi Ma un eroe dovrà pur iniziare no? Giusto? Sì Sì certo Onesta I bambini visto? I ragazzi La bocca della verità Anche tu Kamala Khan Mi ricorderò il tuo nome L'ho da Il santo dio del tuono Giuro che Non lo so Mi da fastidio sta visuale Troppo Troppo da vicino Dove basta la sense del mouse Troppo alta la sense te lo giuro Grazie mille Siamo a tre Ok Così almeno Sennò è veramente troppo alta Poi è la prima volta che gioco questi titoli così Morire anche da Capitan America È fantastico Spostati Scusatemi Il concorso è solo per veri fan Perché pensi che non sia una vera fan? Anch'io ho il diritto di stare qui Credi che gli Avengers abbiano letto la tua storiella? Ma sparisci Il veleno Il veleno Il veleno Brava Arrabbiate Arrabbiate Brava Sì Quando la folla E la stampa E il mondo Ti dicono di spostarti Tu piantati come un albero Accanto al fiume della verità E di a tutti no Spostatele voi Siamo questa Questa qui conosce tutta la cosa a memoria Non sai chi è? Un vero fan sì Sì Come ti pare Andiamo via Sinti a cadena Dai a casa Cuccia Sbrigate Tutte e due Dai Grandioso Hanno finito i fumetti Eccolo qua Sei Per quel che vale Sei stata molto coraggiosa Grazie Sei una fan di Captain Marvel Non è qui ma le saresti piaciuta Scusa ma tu sei Captain America Io sono Kamala Kamala Khan Khan Me lo ricorderò La tua storia Le malvagie lucertole Lucertole delle fogne Sì 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 A Torre è piaciuta molto Ha detto che hanno avuto un problema semile ad Asgard Hai Hai letto la mia storia Tutte quante È incredibile È emozionante Dovevo andare sul palco Tartone è impaziente Molto emozionante questo gioco Io sì Sì Pochi minuti fa Era allo stand di Stark Però Probabilmente non è più lì Perché si è allontanato Guarda il pass Attaccato alla mietta Della ragazzina Permettimi di presentarti Una concorrente Lei è Kamala Khan Esperta di lucertole malvagie delle figlie Oh Oh certo Quella cosa che mi hai fatto fare Col tombino Era niente male Non è nulla Rispetto al tuo scontro Con Madame Idra Quello era Forte Dobbiamo salire sul palco Sì A presto Kamala Ci si vede Ci vediamo Quella ragazza in America E Black Widow Da un muoto E un altro numero è mio Posso provarci? Provate Se sì C'è ragione È vero Era Solenne È vero Alzo Buono Ci sono quasi Balconata Saremo Saremo E dove Saremo Se riesce a prendere Il martello Saremo E può ancora esserlo. Ora concentrati e pensa a ciò che conta. Con il nostro lavoro cambieremo il mondo, George. So che non ti piace lo sfarzo, ma ne varrà la pena, vedrai. Vorrà controllo e guadagno. Non glielo permetteremo. Questo è il tuo momento. Con i fondi della Stark e la tua mente, sarai un eroe per tutta questa gente. Non capisci? Siamo così vicini. Ecco qui. Bruce. Sei sparita stamattina. Colpa del lavoro, scusa. Ma certo, lo so. Che cosa c'è? Niente. Solo che stiamo rilicendo strane rilevazioni dal reattore. George era giusto. Forse è troppo presto per annunciarlo in pubblico. Credi che potremmo controllare un'altra volta i calcoli? Sì, sì, certo. Oh, grazie. Scusami tanto. Che ci fai qui dietro? Io... Mi sono persa. Come no? Il fometto. Ma ora torniamo all'evento principale, ok? No, ho già questo numero. Aspetta, forse posso scambiare questo numero con quel bambino. Ehi, ho il numero che volevi. Fantastico. Facciamo cambio. È stato un piacere fare affari con te. Ora che li ho tutti, potrò accedere alla balconata VIP. Ricordatevi di collezionare i cinque fometti esplosivi per accedere alla balconata VIP. E noi ce l'abbiamo, ragazzi. E noi li abbiamo. Direttore Fiori. Direttore, ha considerato che il reattore dell'elivelivolo potrebbe non riuscire a contenere questo Terrigen? Non conosciamo ancora... Allora, andiamo. Beta, ecco l'accensione per la tua balconata esplosiva. Ricordate la scansione del telefono. C'è ragione proprio tu. È vero. Apriti il sesamo, signori supremi dei fumetti. Cioè, fammi che lui c'era il passo, ma ha fatto a cercare tutti i cosi, tutti i fumetti. Fanculo. Vediamo se lei ce l'hai. Ma è lei non ce l'ha. Adesso non si vede male lui. Siamo qui per festeggiare due incredibili tarni. È il giorno più bello che la mia vita. Non sono lieto, Beta. Sì, che sta parlando? Sì, che sta parlando di eroi molto più straordinari di quanto siamo dentro. Secondo, vogliamo inaugurare una nuova fonte di energia pulita chiamata Terra. Mi dicono che sia molto potente. Per spiegarvi come funziona l'uomo che l'ha scoperta, il dottor George Tarno. Grazie, Capitano Rodgers. La chimera è alimentata da un nuovo minerale, il Terricene. Tre anni fa ho trovato una strana roccia, sì, nella Baia di San Francisco. Dopo ulteriori test è risultato chiaro che questo minerale... Il solito sborone. Qualcosa non va. Andiamo via da qui. Vieni. Da, volevo sentire che diceva il dottore, io scusa, eh. Ero curioso. Non esistono incidenti. Thor, Tony controllate. Vado subito. Stammi dietro. Preparo il quinget. Non si sa mai. Ok. Stavi aspettando? Ah, sì. Ma è Thor che porta il martello o il martello che porta Thor? Qui sì che si fa molto più interessante. Dobbiamo darci una mossa. Io sono da lì. Thor, prova ad aprire una strada sul ponte. Ok. Via, via, via. Ci sono almeno due nostri di uomini armati qui. Ci servono rinforzi. Voi non siete degni. Tony, Thor, la situazione. Ci sono mortali bloccati e parecchio mini armati e arrabbiati. Ho appena preso un autobus. Niente. Forse avrei dovuto fare una curazione più abbondante. Continuata a sparare. Tor, grazie per l'aiuto. Abbiamo dei civili bloccati dietro le barricate. Ho capito. State dietro di me. Allora ci penso io. Siamo noi, anti-Thor. Niente. Sarà divertente. Thor, con chi abbiamo a che fare? Si sono presentati. Aspetta, quelle armi appartengono allo shield. Provo a contattare il comandante Yves. Cap. Hanno scelto proprio oggi per un motivo. Lo penso anche io, Bruce. Resterò sulla chimera finché non avremo scoperto che succede. No! Aiutami, ti prego! Sei ferito? No, sono intrappolato. Per tua fortuna sono potente. Grazie, Thor. Corri al sicuro. Per tua fortuna sono potente? Oh! Tor! Tor, grazie! State giù, rinforzi in arrivo. Eh. Nuovo versato. Sì. Ho sempre questo cazzo Iron Man di merda. Oh! Devo ammetterlo. Quello è stato notevole. No, raga, ma ha crashato il gioco. Non ci credo. Troppa forza divina, Anto. Troppa forza divina. Non ci credo, raga. Ha crashato il gioco. Ma? Eh, è sperito il gioco. Cioè, non ce l'ho più. Cioè, me l'ha rimesso in download. Non ci credo, raga. Cioè, mi ha rimesso il gioco in download. Io questo, questo lo posso far vedere, raga. No, lo voglio far proprio vedere. Xbox. Ok. Se lo fa vedere. Non, non ve lo fa vedere. Guarda, va. Vediamo un po'. Cioè, è assurdo, raga. Ma l'ha, mi ha rimesso in download del gioco. Cioè, mancano, mi dice che mancano 20 giga. Cioè, stavo, stiamo scherzando. No, tu guarda Gesù Cristo, guarda. Allora Speriamo a fare una cosa Arrivo subito Allora Ok Nel frattempo Aspettiamo un attimo Comunque è assurdo Quello che mi succede a me Lo giuro su Cristo Che è veramente assurdo Hai ragione anche Io non so Tu dove tiri queste cose fuori Allora su due cose O sei studiato O sei veramente studiato Veramente tanto O sei un comico Di natura Nel senso Un Cioè No comico Come si dice Una persona teatrale Non è proprio bello Il mio faccione Lì singolo Siamo a 60 giga Comunque Vuoi o non vuoi Questo gioco Pesa comunque 84 giga Voi sapete Quanto sto scaricando Sto scaricando A 14 mega Cioè Non finirò mai Vedrai le cose Come giga De sto gioco Guardate Una cosa che vorrei vedere Grande È La cifra Del download Qui Che Sto viaggiando A 14 mega Al secondo È un'assurdità Questa Ve lo giuro Su Cristo È veramente Un'assurdità Mi stava a fare Gioca Mo Me l'ha tolto E si è messo A fare il download Mo speriamo Che mi abbia salvato Quello che ha fatto Cioè Non è che ho fatto Crianché Però Siamo All'80% Questo è quando provo a fare qualcosa di nuovo Tornando al discorso di prima Cerco a fare qualcosa di nuovo Ovviamente Le forze divine Vogliono che gioco a code E basta No non è vero In realtà Sono un paio di giorni Che porto giochi Completamente differenti Dal mio Dei miei giochi Inizio a nervosirmi Siamo scesi a 13 mega Mattei ha eseguito La storia degli Avengers O Cioè Se ne è appassionato Non se ne è appassionato Vedi Ha soffiato Più che soffia lui Io sto aspirando Lui soffia Io aspiro La lucelletto canta qua E' snervante questa attesa Te lo giuro Non è Veramente snervante Mancano 10 giga A 14 mega Al secondo Ci mettiamo altri 10 minuti Dai Peccato perché c'è Stato pure la stream Aperta Capito Quindi De conseguenza Rallenta E' stato parecchio Cioè Non è che Dei solito Vado così Tanto più veloce Però A 20 mega Ci arrivo Potrei spaccare qualche cosa Te lo giuro Vabbè Non credo sia Interessante Tanto quanto Il mio gioco Almeno c'è il mio faccione C'è sempre Non possiamo fare nient'altro In realtà Cioè Sennò La connessione Se non avrete Affanculo Faccio ritrovare Guarda Se è fatto ritrovare Interiormente Se è fatto Veramente 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 Trovare Se è fatto Ma veramente Manca poco Che sta qua A fianco Qua Sta qua a fianco Tra poco Tra poco Li posso stringere la mano Grazie Grazie Parola Allora Siamo all'86% ragazzi Non temete Non temete Minchia Io cerco della sicura a voi Ma io sto per dare la pazienza Sì, è molto È molto sacro Molto Molto È talmente tanto sacro Che non lo pronuncio Guarda E stiamo nel Nella credenza Lo sai che cosa è ora? Di questo qui Ti presento Sei pronto? Ti presento il mio antistress Questo è il mio antistress Si chiama Escilo No Esc Si chiama Escilo Dai, mancano 5 giga ragazzi 5 fottuti giga Ciao la tensione chi è palpabile la tensione credo che questi ultimi 5 giga ragazzi saranno i più lunghi della mia vita ma nel frattempo se possiamo far giochiamo a solitario va bene allora l'accetto è continua allora vediamo un po' giochiamo giochiamo nel frattempo livello 1 però che non lo fa vedere non ce lo fa vedere ragazzi lui è detto bene lui non il sottoscritto il sottoscritto non continua a dare cattura ok facciamo così schermo intero niente non ce lo fa vedere ragazzi peccato non possiamo streamare questa questa cosa qui peccato vabbè i suoni li sentite però dai almeno i suoni li sentite è un vero peccato ragazzi veramente un vero peccato stavamo andando così bene ma il karma ci punisce non senti neanche l'audio cioè non senti l'audio del del gioco allalala e allora qui è un problema la mia voce è tutto basso ma come è tutto basso dai mannaggia bro cioè seriamente vedi bro lo vedi il punto io non sento la voca non eppure a me mi sta tutto a posto mi sembra allora vediamo un po' però fattimo così allora rischierò il copyright ma ci dobbiamo provare ragazzi ci dobbiamo provare vediamo se va bene senti? si dai si senti usiamo un po' più qua così vediamo che succede mannaggia bro ok cioè a me dalla piattaforma qui mi dà tutto a posto ce non vorrei che sia impallato tutto il Gesù Cristo cosa impedirebbe a colui che può tutto di manifestarsi agli umili suoi serpi cosa io lo impedirebbe ciao impedirebbe lui lui lo impedirebbe ok però così non vale così non vale me le tiri fuori dalla bocca ragazzi mancano a conti fatti è impossibile c'è qualcosa che non va Antonio qui c'è qualcosa che non va allora il gioco pesa 80 giga sto a 79 giga punto 4 e mi dice che sto al 93% allora e non so che dirti Anto non so prova vabbè lui è uscito tu Anto come mi senti cioè tu senti tutto a posto ok ok magicamente siamo saliti al 95% senza senza accorgercene un peso due misure un peso un peso due misure a volte mi lasci perplesso io a volte non riesco ad arrivare ai tuoi discorsi così complessi articolati cioè sono abituato altro io nel frattempo l'altro Antonio è uscito senza dare nessun feedback mancano 4 giga ragazzi 4 giga 4 giga 4 giga che potrebbero trasformarsi in 4 santi potrebbe dai 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 2 giga ragazzi dai 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 ok 3 2 giga tondi tondi che mancano raga 2 giga tondi allora nada del genere i midurbia lo sai quando finiranno quando questo download arriverà al 100% e continueremo a giocare e smetterò di distruggere il mio il mio antistress che in questo momento diamo lode a questo tasto più che a qualcun altro visto che l'onipotente interferisce sempre nelle mie faccende giornaliere potrei potrei sfiorare la blasfemia potrei sfiorare in questo istante nel cervello me ne sono passate tante ve lo giuro 98% diciamo non mi spaventa niente ma mi turba veramente tanto questa attesa snervante mi turba veramente tanto ma come noi sappiamo è un'altra prova del nostro Dio Signore mancano 70 mega ragazzi 70 mega ci siamo riposiamo il nostro questo antistress ma che cazzo ma aumenta sto gioco di merda ma aumenta ancora ma non è possibile ma se il gioco pesa un tot non può aumentare 84 giga 3.7 adesso ok è finito ora dove sta Marvel gioca ci riproviamo ci siamo abbiamo aperto il gioco oh ok reset si torna ragazzi allora dopo lo vediamo torniamo a noi no ho sbagliato era quell'altro vabbè ora torniamo sulla modalità storia ci proverò giuro giuro che sarà la missione di oggi ah lei lei è quella della storia ok quindi alla fine diventa mi sono spoilerato alla fine della storia praticamente sbagliando parte del gioco comandante Hill qual è la situazione beh innanzitutto la sicurezza qui andrebbe migliorata clint santo cielo direttore fiori non te l'aspettavi eh si la hill mi ha aggiornato sembra che debba ringraziare voi avvenne l'avvenimento più epocale della faccia della terra salta dai facci saltare su eh chiudi nuovo però è disponibile signore ho aiuto e allora tornando al menu principale minchia oh ok questa l'abbiamo fatta ma qual'è quella che abbiamo fatto proviamo potrei adesso potrei veramente sbroccarsi se non ha salvato quello che doveva salvare ok bello ok devo ammetterlo quello è stato notevole preso oh spavolto mi piace dai io arrivano ma sta scena non me la degli scudi non ho visto niente ma questa qua prima non ma prima non c'erano questi raga what mi prendo a martellate ve lo giuro su cristo sui piedi ti prendo ma ma queste scene dove sono uscite non c'erano ho appena ricevuto conferma la mattina hanno rubato un convoglio shit è uno di quei brittin mattutini di fiori che non leggo mai e dai toni sono importanti ok come vuoi razzi bursar chiedo che fiori abbia tenuto la mia tecnologia migliore tutta insieme coi razzi finiranno per destabilizzare il ponte si lo so li ho costruiti io cap dovremmo mettere in sicurezza il cristallo terrigeno se dovessero colpirlo sono già all'opera il dottor Tarleton sta scendendo nella stanza del reatore e scusa la scena di quelli che l'ho alzato sotto il canyon oh che bello possiamo volare con le mie stesse armi vi terremo aggiornati e gusta bene io non sapevo che stessi ancora ascoltando mi aspettavo che questi idioti si fossero dati alla puga ormai ho l'impressione che non abbiamo ancora visto tutto sta succedendo qualcos'altro qui non sapevano non sapevano non sapevano non sapevano E' un attimo tu sotto alla macchina Ma lo vedi che sto a combattere Quanta ingratitudine ragazzi Che succede laggiù, Tony? No, niente E' tutto perfetto Spero solo che non abbiano Niente, sto zitto Hanno dei carri pulsa Cap, la nave non è pronta per volare Perché si muove? Qualcuno ha avviato i protocolli di sicurezza L'autopilota della chimera è inserito Servono rinforzi, rientriamo Negativo Proteggete il ponte Quelle armi non devono entrare in città Ricevuto Tocca a te Bruce Vai Hulk, vai Aspettavo proprio te Oh Sciocchi Mi davano le scosse Cosa volessi fare con questa arma? Sciocco Non cascare lì sotto Non cascare lì sotto Eh, questa farà male ragazzi Grande Hulk No, so cascare lì sotto Ok È il più mattacchino di tutti È vero No Sono i nemici volanti No What the fuck Mi fai il solletico zio Dio di sotto Via anche duf Sapete, oggi mi aspettavo più fan club e frittelle Concentrati, Tony Mo' esplode, mo' esplode Ok No Come sta andando È vero salito Sto arrivando, sto arrivando Ma Guarda E ha detto E ha detto Spostati Nice Grande Thor Not Mi ricevi Attenzione La chimera è sotto attacco Evacuati civili Via 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 ciao ho spiegato la che l'avevo visto ma non mi ha avvertito non me lo fa fare quello che dice lui devi avere una paralisi secca dove prende non me lo fa fare però prende ma non me lo fa fare ragazzi non me lo fa fare non me lo fa fa potrei potrei nervosirmi parecchio ma non me lo fa fare farnaggia fanculo vuole impararmi la mossa quella nuova niente non me l'ha fatta avere però ok quel reattore non si stabilizzerà la struttura molecolare del territorio si sta scomponendo in un gas qualche cosa la sotto sta inviando energia al reattore che cosa cosa dice antonio la nave non resisterà ancora a lungo ci sto provando andiamo perdendo gente zitta il cucci vai il cucci vim che sta succedendo là fuori ma ma chi mi chiama quanti so avvengers se mi sentite il convoglio trasporta una bomba a distruzione sonica altamente letale il piano dei nemici è di farla esplodere in città molto blasfema la cosa che dici ve lo ripeto abbiamo una bomba sonica andate a recuperarla subito bomba sonica mi prendi in giro pensavo che le avessero vietate diamo un'occhiata va bene niente ma il ponte non era distrutto dall'altra parte o grande non so quanti sia consigliabile applicare quelle cose sul ponte 20 chilometri beh cosa stiamo aspettando davvero dio dio non ha non ha sesso ah con lei ancora non c'ho ah ok praticamente ah sì te ne faccio vedere uno io ti chiamo a darti una lezione è cazzati è dentro la testa la base del ponte è sicura ragazzi che super poteri cia lei se legge la chat siiii mangia la polvere brutto pezzo di merda sai speravo di affrontarti meno male io invece non ho mai ripensato non altra volta ok me l'ha fatto fa adesso me l'ha fatto fa non mi l'ha fatto fa no mi ha preso oh non me lo fa più fare l'altra volta raga ma stiamo scherzando oh raga non me lo fa più fare l'altra volta c'è guarda non me lo fa fa guarda cioè fino a mo me l'ha fatto fa adesso non me l'ha fatto più di fa e che te pozza diciamo che sto riscontrando parecchi guarda non me lo fa più fare io invece non ho mai ripensato a te fatti sotto ok mo me lo fa rifare non mi spara più niente non me lo fa rifare l'altra volta ok porca miseria ok niente niente raga vogliamo ancora vivere l'immortalità pagane no c'è ragione non Aldo grazie mille per il like Barat grazie mille per il like oddio mi ha preso le cazzo mi ha preso mi ha preso mi ha preso ma orca miseria ma non è che a volte non me lo fa fare guarda mi minchia potrei impazzire cavolo giuro su cristo ok ci siamo riusciti non so se ho un problema con come se stasera ma non importa ora ho questo ma maledizione da me no è prendendo i soliti appunti cosa no più combatto più apprendi giusto si chiama zero no tengo che riguardare l'arma marco ragazzi mille per il like buongiorno e benvenuto ma lui ma lui non casca mai di sotto raga giuro che l'ho perso di vista no oh oh maria ma quanta vita c'ha questo ma perché poi lei c'ha due pistole e gli altri raga ma che stiamo a scazzare c'è chi si è ricaricato la vita no ho sbagliato ragazzi secondo me si è impallato non tratta il gioco ragazzi perché se no non è possibile mi sta innervosendo ragazzi avangers avangers salta Il vincitore Sì potrebbe essere Dio In questa cosa dovrei vincere io Non Dio Io umile servo di Dio Da questo mi sta rompendo il cazzo davvero Il tuo balletto finisce qui Te sei stancato Minchia Ok giallo e blu Ahà Questa è il miglior operante Qualcosa di molto più prestigio Che sarebbe? Non voglio rovinarti la sua No Minchia questo E ho messo modalità normale Ma già mettevo L'ho fatto Lui è impassibile Ai miei proiettili Grande No ho sbagliato lato Ok No Cazzo Niente Dai rimasta mezza vita Sono stanco Regà ve lo giuro Stai ancora provando A mettere insieme i pezzi Ti arrendi? Non se ne parlo Ma come è varato? Ma come è varato? So che non sei il cervello dietro l'attacco E che questo puta di diversivo Basta parlare Codarta Codarta Che se Non ti piacciono le sorprese? Vai così Giuro ragazzi Mi fanno male le braccia Avevi previsto anche questo eh? Pensavi di aver vinto Pensavi di aver vinto Ma di che diavolo stai parlando? Guardati attorno Romanov Il mondo si ricorderà di questo giorno Il giorno in cui i loro eroi fallirono E' bello E morio a sto pezzo del merda E tutti adesso Che sta succedendo qui? La città collassa Maledizione è una trappola Steve puoi sentirmi? Vattene subito Beta Al diavolo Mi piace però che Tutti questi disastri Vengono sempre in America E non da altre parti del mondo Doveva essere il giorno Il giorno più bello della tua vita Ragazzina Nooo Nooo Migliaia di persone innocenti Sono morte E molte altre Portano ancora le cicatrici Di quello che oggi conosciamo Come Eidei Centinaia di malati Sono rimasti bloccati In strani bozzoli Per poi emergerne Con pericolosi Poteri sovrannaturali Senza alcuna cura La malattia si è diffusa In tutto il paese E mentre sia lo shield Che gli Avengers Promettevano di sistemare La situazione La testimonianza Del dottor Banner Ha messo la parola fine A un'era Voi cosiddetti eroi Avete trasformato San Francisco In una zona di quarantena Piena di gas infetto Avete creato Esseri malati e potenti Che seminano il caos Molti dormienti E non identificati Quindi le ripeto La domanda Dottor Banner Gli Avengers Sono un pericolo Sì Sono un pericolo Può essere stati Dichiarati fuori legge Il gruppo di eroi Si sciolse In verità Molti di loro Se ne erano già andati Con la liquidazione Della Stark Industries Il dottor George Tarleton Una vittima Degli avvenimenti Delle idee E fondatore Delle avanzate Idee meccaniche Pensa che la scienza Sia la soluzione Ai problemi Del paese Vorrei tanto sapere Cosa è successo Al capitano Rogers Ma non ero vicino Alla stanza Del reattore Non ho risposte Quindi Ma posso promettervi Questo Io userò Questa mia Seconda occasione Per rendervi Più sicuri L'I.M. Riuscirà a trovare Una cura Alla malattia Degli inumani Parole che saranno Di conforto Alle famiglie Distrutte dalla malattia Pecca forse Di arroganza Sono in molti A criticare L'I.M. La cosiddetta Resistenza Diventa ogni giorno Più numerosa Io sono Phil Sheldon In diretta Per l'anniversario Delle Riesce Indovinare Copia Tutto Quanto Contatto Io Ora si Ragiona Per la barba Che i capelli Sono andati Un bel po' di tempo fa Ma chi Resterà molto delusa Se non ci andrai Hai ragione Anch'io a volte Voglio Ci penserò Questa dote Di narrazione Molto bene Ci sarà il gelato Meglio ancora Niente ragazzi Solo divertimento Ti voglio bene E io di più Ma non capisci Ok Devo andare Al quartier generale E scoprire Cosa c'è Su questa chiavetta Ah vedi Allora c'era pure lei Non c'è Superpoteri Non ho letto Ma non era maschio Quello di gomma Allora No Sono morto E volato in cielo Con Gesù Che cos'è Bell'indizio Ragazza No Ha lasciato Le cose E salta E Non segna Che c'è qua Che cos'altro Grazie per il passaggio Non lo fa Troppo No Ok Ecco fatto Il quartier generale È un po' Un casino Ma è tutto mio Devono solo Provarci ad attaccarmi Dalla distanza Braccia allungabili E via Ok Mi rimpazzirebbe Se lo vedesse D'altronde Mio fratello Si agita Per qualsiasi cosa È conciato Piuttosto male Mi chiedo Se ne producano Per pugni enormi GGS Allora Devo salirla Sopra Vedo se c'è Cos'altro Da Da Spizzare Ma scusa Se sta cristiana C'hai i bracci Che si allungano Perché devo spostare Le cose Scusa Un altro fumetto Ok Perfetto A che serve Una sicurezza avanzata Quando solo io Posso fare Questo salto Che problemi C'hai tu Che ti vuoi allungare E mi fai spostare Un cazzo di coso Mi serve Il mio lato Ok Collezionabile Se Abuli scoprisse Le getterebbe via Crede ancora Che siano la causa Di quello Che mi è successo Alle idee Ah quindi Anche lei è rimasta Infetta Non ce l'aveva Già i poteri Ok Perfetto Ok Vediamo Che c'è La chimera Deve essere il video Di sicurezza Del reattore Dottor Tarleton Ma Dovrebbe essere Sul ponte di comando Oh cap Che succede L'han culati L'han culati L'ha chiuso lì dentro Nessun malfunzionamento Ha ucciso Cap Oh mio dio Ha ucciso Cap Comunque sono fantastiche Le animazioni De sto De sto gioco Cosa Tiger Dancer Oh no Hero Spark Non saprei Se fosse una trappola È una trappola Grazie mille Antonio Grazie mille Per il tuo supporto Grazie 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 Allora Nuovo obiettivo Ma perché È la Stampa sotto Il Cosa Il tetto Ma dai Ma perché Scusa Ma tu Cristo Dio Allora È certo Ci sta la Guarda qua Beh diciamo Che questo qui Era il suo sogno No Di diventare Un supereroe Brava la porta No, aspetta no, ce li giù ce li ho visti, è un'altra cosa che brillava lì sotto Ah no, non era niente, vabbè Che te urli, state zitta, altrimenti ti scoprono Ad estremi odio Potrei Quanto tempo Da bambina venivo sempre qui con i miei genitori L'AIM sta demolendo tutto per costruire la sua nuova clinica, che spreco Tutti a criticare e a vandalizzare Tutti inumani, tutti scomparsi, è questo che preoccupa davvero Abu Odino sul combodino, aspetta come era prima Minchia dopo quattro anni questa si è decisa di fare qualcosa Lì avanti dovrebbe esserci un buon punto per tenere d'occhio la statua Ti serve una mano, bestione Cap Ne è passato di tempo Scusa perché mi ha fatto scendere, dici, mannaggia È molto illusorio questo gioco Questo è quello dei fumetti Tiny Dancer Ehi, ehi Dove vai? Casa Davvero? Resta con noi Ehi, vuoi bere? Molto, molto, molto pericoloso lui con una soda in mano, eh Molto minaccioso Un clipper Quindi vuoi che tornino, eh? Così uccideranno ancora Cosa? No No? No? No Quindi cosa? Ti piacciono gli inumani? Dai ragazzi Stupidi simpatizzanti Fermi! Ehi, va tutto bene? Candelina è un'amichetta Zack Guarda la borsa Cosa c'è? Che problema Ma non l'hai vista? Stava lì alle spalle Stava Ma che cosa fai? Il mio fratellino si trovava a Leyte Aveva scritto delle idiozie su Captain America Non c'entra niente Invece c'entra e come? È diventato un mostro viola E poi l'hanno portato via Sta calmo Basta E poi è morto Basta È morto Zack È morto Indietro È uno di loro Non fatemi toccare Scappiamo Tutto ok Forza andiamo via Non mi toccare Cosa? Fanculo coglione Che merda Mi ha appena salvato la vita Devo muovermi Se mi catturano Su quel muro ci sarà anche la mia foto No Non ho visto Eh Non ho preso E mo? Niente Pensavo dovevo combattere Ma invece no Devo muovermi Allora Catturano Su quel muro ci sarà anche la mia foto Cosa basta sta cristiana? Che ansia Sti robot poliziotto Te lo giuro Eh Potrò tornare a casa Sanno chi sono Eh vabbè Ho capito Individuate in fronte Vicino alla statua di Hulk Controllare Ricevuta Esatto Il tuo amico vuole che l'aiuti Vattene Raggiunge il parco Diceva Incontra Tiny Dancer Diceva Stupida 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 Era palese che era una trappola Signorina È stata qui Eh lo so che è stata qui Eh Quello lì H Devevi Sì Sì Ok Non si è girato Ok Adesso escono le Grazie mille per le altre 100 Antonio Un 2 Grazie mille Te lo giuro Grazie 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 E sta zitta Che moda Si realizza il tuo Movimento delle fogne Cazzo ridi Stai in mezzo Stai con la merda Fino al collo Stai Accorciare no eh Non immaginavo che avrei concluso La giornata Spingendo a cassonetti Dell'immondizia Ok ci siamo Oh merda La I.M. ha degli umani Che mi stanno cercando E che possono Teletrasportarsi Niente Stai impicciata Signorina Via libera Non so perché Non so perché non mi faccia Scherciaprima i tasti Devo aspettare Forse che me lo dice No No Ci sei rimasto male Sono loro Ah bene Sei sveglia Sono dispiaciuto I sintoidi Stavano solamente Seguendo i protocolli Di sicurezza Rubare informazioni Riservate È un crimine grave Monica Dalle tregua Ehi che succede Dove mi state portando In un posto più sicuro Perdonami So di non essere come la mia controparte olografica Ma è un bel trucco per gli azionisti Dottor Tarleton In persona Perché hai violato i nostri server Io non ho rubato niente E allora cosa cercavi La cura forse La conoscevo in modo differente Un potere soggettivo Un potere illimitato E pericoloso Direi che è letale La conoscevo in modo differente Questa frase Tu Sei fortunata Ad essere viva Ma con La tecnologia Potremmo rimediare Ai torti subiti Così potremmo restituirti Una vita normale Ehi ho solo indovinato Una password Ok Io non pensavo di accedere Lei è chiaramente violenta La sua infezione Sta peggiorando Cosa? Non volevo far male a nessuno Certo che no Ma se dovessi perdere Il controllo Un'altra volta Che cosa succederà Se tu Farai del male A qualcuno Che ami Perfino gli Avengers Soffrono Per la loro arroganza Usa i due poteri Adesso Ehi Tu eri lì Cioè Quando K È morto Eri presente Sì Per fortuna Monica mi ha trovato Sul ponte La sua formula Rigenerativa Mi ha salvato Credimi Kamala È per il tuo bene Ok Lascia che la IM Ti aiuti No Correrò ai miei rischi Va Dannazione George Prendetela Subito Brava Brava Kamala Ti sei appena rivelata Come inumana Stupida Che cosa pensavi Di unirti alla resistenza Di diventare un'eroina Non piangere sul latte versato Cara Se tornassi a casa Ami yabu verrebbero puniti Per avermi nascosta È un vero disastro Aiuta La vecchia base Shin La resistenza saprà cosa fare Sì Grazie ma no Non posso più nascondermi Devo lasciare la città Se la vedete Non lo so 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 No No Non lo so Non lo so E mi ha derrotto il cazzo Però Grande Ce ne mancava un altro E Ma avevo smesso le saltate Già da Già da un pezzo Salta Salta No Mi sta aiutando Non mi permerò a scoprirlo Eh sì Dovrò fuggire dalla città con la forza Ok Proviamoci Allora ogni ore che possiede una barna è ok Limita il prezzo va benissimo Bello Sono granate quelle Bello Non so perché si è aggrappata lì sopra ma Sembra che i nostri nuovi amici abbiano bisogno di Una mano Ok No non è vero Era una bugia E vabbè Come faccio a saldare E' sorprendente Quanto lei Riesca a parlare Mentre combatte Stavo scivola giù Come sprecarla così Ok Abbiamo spento la luce anche all'ultimo robot E dai Nakia coprimi Di che sono al ritiro con te Ok Addio Jersey Soggetto 1102 Riesce a cronarsi quasi perfettamente Tranne una leggera variazione cromatica negli occhi Le cellule si separano partendo dal centro Creando due individui Ah E' proprio come una planaria Ma umana Esatto E mantiene tutti i ricordi del soggetto originale 0925 E' capace di creare potenti raffiche di energia E ne abbiamo diversi con abilità Basate sul fuoco Stiamo assemblando un arsenale Potere programmabile sotto il nostro controllo Basta eroi Basta sbagli E' ora di un'altra dose Io sto bene Eh infatti bravo Infatti non Mi so mantenuto Per non di una cazzata Però io mi ricordavo Che era un uomo Mister Fantastic Questa c'è già l'elebra Questa c'è già la base di quella statua Vorrei poterla distruggere Ignorala Perché far credere al pubblico Che temi ancora gli Avengers Ci penseranno i miei uomini Dobbiamo lanciare gli abattoidi Hai ragione Questa versione è un po' più Potente E' stabilizzata Io non credo Quasi Una scienziata che fa esperimenti su uno scienziato Incredibile Ok Io non userei il telefono Questa è un po' più Ok Segreteria di Yusuf Khan Per favore Lasciate un messaggio E vi richiamerò Ehi Abu Ho seguito il tuo consiglio Sono con Nakia e le altre a ritiro So che sembra assurdo Ma qui non c'è campo da nessuna parte Ho dovuto raggiungere questo telefono a gettoni Per riuscire a chiamarti A ogni modo Avevi ragione Ci stiamo divertendo Tornerò domenica Farò la brava Ti voglio bene Che l'avventura cominci ragazzi Eh un bel banghetto Dovresti fartelo eh Visto se sta dentro le fogne Bene Tutte le teorie Cospiratorie online Indicano questo canyon Come quartier generale Della resistenza Loro sono La mia unica possibilità Almeno so che Qualcuno in giro c'è È fredda Che anziano Mamma mia Finalmente Qualcosa di diverso dalla roccia Questo è un buon segno Oppure no Il cartello non dice Che è un buon segno Andare di là Nel senso Quindi Mazza Tutta sta vita Si è tolta Ti sei buttata Da palazzo Ti sei buttata Da Gesù Cristi La resistenza Ecco dove sono Deve essere così Oh no L'AIM è arrivata prima Ok Ok Mi sono partiti proprio Vuol dire che non c'è nessuno Era la loro base Ma Dove sono finiti Forse sono andati Sì Ma Probabilmente risorsa Qualcuno deve essere scappato Saranno qui da qualche parte Devo continuare a cercare Corri 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 Le gambe Le gambe Ahah Alzati Corri Ma What the fuck Non c'è nessuno brava bravissima i miei genitori impazzirebbero se mi vedessero neanche io sono tanto tranquilla impossibile niente l'ho trovati incredibile li ho trovati eh fosse difficile finchia stessero su sto terra che ne so andiamo ha sviluppato cazzo ridi steve è cascato sotto ha sviluppato un nuovo potere che bella cosa oh comunque sto sta questa stanno casinio mi sembro di da regazzino oh oh ce l'ho fatta la resistenza deve essere qui ciao ragazzi sta visuale da da vicino mi urta proprio il sistema nervoso pensavo ci sarebbe stato qualcuno di guardia luci allora c'è qualcuno andiamo a scoprire andiamo a scoprire ok non pensavo fosse così stancante sto gioco regà vi giuro ma ma stancato cioè non a livello di voglia di giocarlo proprio mentalmente porca vacca il ponte di comando ma dove sono tutti quanti sei rimasta da sola zia ci siamo il quartier generale della resistenza abbiamo dormito qui ma quanto tempo fa quei droni dell'AIM hanno fatto scappare tutti hai sentito il rumore? senti il rumore? è un po' polveroso no sono qui da qualche parte grazie grazie Antonio altre 100 grazie mille ma queste risorse che mi sta dando secondo te servono a qualcosa? e la? forse si sono nascosti negli alloggi dell'equipaggio e sono rimasti chiusi fuori e vuoi attivare la corrente ti pare? ah qui abbiamo combattuto all'inizio praticamente no sei giù forse posso trovare un modo per riattivare la corrente forse c'è un interruttore o qualcosa da accendere di uno e tre no ma sai che a volte c'ho paura di lasciare poi dei pezzi fondamentali per la storia per l'omettezza di me la grazia del dio del dio del dio devo solo allungarli centro evo scivola no 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 sei fatta male fanculo ho raccolto fino a moi frammenti per te ora e sai com'è? e sai com'è? che cos'è? andiamoci dai come film horror lo scudo quello che penso che sia lo scudo del Capitano America Capitano America come si chiama? come fa ad essere ancora qui? è così leggero avevi ragione Cap il Terrigen era potente chi è la? quindi questa qui sarà un mix tra tra tutti e Hulk oh no non scappare da Hulk è il tuo amico aspetta non farmi male toripper sono lì dentro ti prego svegliati subito ascoltami un attimo doktor Paner Grande lo scudo Ti ha salvato il culetto Stupida umana Pulca con la barba ragazzi è tipo l'ultima moda sempre sempre gg a gg e su fosse ora nuovo livello ah ok e sto schiacciando tab ok grazie allora finalmente primario uso i punti abilità ok va bene allora che quanti punti abilità c'ho dove dove leggo dovrebbe essere questi se non vado errato erano quelli lì cioè certo era sottointeso era grazie grazie dotazione abbattimenti ah ok abbiamo anche diversi abbattimenti ci abbiamo ok costume animazione a questi qui ci serviranno poi nel nel coso nel multiplayer che ovviamente c'è anche il multiplayer ci abbiamo un altro notazione abilità abbiamo un altro punto no non c'è un altro punto ok eh ho capito ma basta dimmelo ho capito Hulk dove sei Hulk parti fragili bello eh questo doveva essere l'angar ci sono quasi ok devo finire là sopra calma camala devo solo arrivare al ponte superiore senza farmi staccare la testa che mi piace a far prima un giretto qui vediamo se dobbiamo ricoprire qualcosa a a a a Grazie a tutti Offrirai la mia vittoria Alla conclusione di questo gioco Ma stai calma adesso Stai molto calma Non ti emozionare Ok Non abbiamo trovato niente di buono Ok Oh No ma perché Premi i pulsanti Sposta le piattaforme Ho capito Quindi potrebbe essere Non l'ultima piattaforma Ok Da spostare Vediamo l'altro telecomando Dove sta Ecco qua Ok Mi preoccupo questa qui ogni volta Chissà se qua intorno c'è qualcosa di utile Che troverei qui dentro Ovviamente Giubbotto Attenzione sui primi vestiti ragazzi Allora Continuo Equipaggiamento Allora Equipaggio Ah solo i cosi Io ho visto altre cose Però dai A distanza Ah vedi Ok Difensivo Ok Eroico Ok Abbiamo vestiti ragazzi Siamo andati a fare spesa Oh Guardate caso Ho trovato una maniglia per elettricità Dentro una scatola Insieme ai braccialetti Dice sorella Umiltà Chi Chi vinse Perse E chi perse Eh Perse al cazzo Si ma Hulk in tutto questo Dove sta scusa E' felice E' felice Ecco la mia via d'uscita Eh Io non credo eh E invece si ragazzi La resistenza è sparita Hulk li avrà spaventati Devo andarmene in qualche modo E te mancano i mezzi C'hai i aerei E cose Sei sei di gomma Ok Proviamo subito subito La nostra nuova attrezzatura Oh Guarda che carcere vi ha dato Mi avete seguito fin qui Davvero infidante Perché non mi raccoglio questi Oh c'è stato Denghia discendente Di Jackie Chan Guarda un po' Ancora Ma basta no Questo che non è quella che Stava a menare al robot prima Allora attacchi Ok Attacco imparabile C'è Lo sappiamo Eh Un'altra volta Non me lo fa rifare un'altra volta Non mi porterete da nessuna parte State indietro Oh Non vedi questa Me ne vado da qui E questa chiavezza Viene con me Davide Non andare di là Gira questa visuale Gira questa visuale Oh Sta succedendo qualcosa di strano Si è bugato tutto Raga Si è bugato Raga Non posso più girare la visuale Ma c'è io non ci credo Raga Ok uno è andato Guarda Posso più girarla Però guarda che infamità questa Si è fatta prendere Brava Già 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 fatto Già mi sono smarrito What Bello Ok Ok Grande Hulk Ci hai venuto a salvare Mi sono perso Anni or sono Non ce l'ha con me Ok Mi sta bene Perché no Stupido Non vomitar Bum Bum Ehi Che cosa stai facendo Ehi Devi rilassarti È tutto ok Mi stavo solo assicurando Che tu stessi bene Ok Non puoi prendermare il sangue della gente Quando ti muori Io lo so Non lo farei In circostanze normali Ma Queste non sono circostanze normali Onesto Porca vacca Dottor Banner Oh No L'interstatale 9 A 20 miglia Dall'interstatale 90 Se prendi l'interstatale 90 C'è una fermata dell'autobus E potrai Scusa Di che parli Ho trascorso Molto tempo Come Come bestione Quindi Dottor Banner Da quanto sei qui? A Quattro anni Un paio D'anni Sì È incredibile Sì Così dicono Allora Per questo I bot A.I.M. Ti hanno inseguita nel deserto? Non esattamente Diciamo Che Ho rubato Qualcosa Del server A.I.M. Aspetta Cosa? Perché? Lo so Lo so Lo so Ok? Credo Che dovresti Vedere Tu stesso Oddio È complicata Questa La decifra In un senso È Tarton Sì Come venire Ok Perché stai disattivando I protocolli di sicurezza? Appena Vero Vero L'ho pensato anch'io Ha chiuso Cap Nella stanza del reattore E poi ha cercato Di rubare la chimera Mi sembra Esagerato Sappiamo che il reattore Aveva un malfunzionamento È possibile Che Cap Gli abbia chiesto Di disattivare I protocolli di sicurezza Ma che titolo Studio c'hai? Abbiamo sentito mille volte Le testimonianze Tarton e Monica Erano sul ponte di comando Quando è avvenuta l'esplosione Non c'è Per questo sono sopravviso O le leggi Ma non credo Che tu le legga Queste cose Ma questo prova Che Tarton Non era sul ponte di comando Al momento dell'esplosione Ha sempre mentito Il resto Della registrazione Mi hanno disconnessa Il resto del video È danneggiato Sì Ascolta Ovviamente mi aspetto Una delle due risposte Io che pensavo Fossi una ladroncola Venuta per rubare Lo scudo di Cap Quindi Pensavo Il signor Stark Ci aiuterebbe Tutto il server Si basa sulla sua tecnologia Lui può sicuramente Accedervi No? Sì C'è una fermata Dell'autobus Sull'Interstatale 9 Viaggia verso est Ti porterà Ad alcuni vecchi amici Che potranno aiutarti Maria è affidabile Dille che ti mando io E falle vedere Tutte queste cose E tu? Hai visto il video? Sai che qualcosa Non va no? Mi dispiace Ma non posso aiutarti Vorrei davvero Scusami Ulk cagasotto Tu sei il dottor Banner Una delle menti Più geniali Dei nostri tempi Più geniali Ma guardati Guarda cosa abbiamo fatto Non sai quanto sia pericoloso Tarleton chiama quelli come me Inumani Sostiene che siamo malati Violenti Dei pazzi Beh tanto tranquilli Non siede Dice che la nostra malattia Finirà per ucciderci Io non gli credo Cercherò da sola Il signor Stark Aspetta Io Ok Ti serve un passaggio Davvero? Che bella bevanda Grazie a tutti che persona brutta che sei come cazzo arrivo subito toni ha conservato qui buona parte delle sue cose quando la star che industria chiusa se c'è qualcuno che sa dove toni quello è jarvis questa pista dovrebbe portarci all'ingresso segreto dell'archivio forte ma è una bella giornata per una storia dio è lo spirito giusto hai l'auricolare che ti ho dato si è praticamente invisibile non ho capito allora perché sei tornato alla chimera non l'ho fatto era lui quindi ha fatto scappare la resistenza onestamente non ricordo nessuno nella nave kamala il bestione si è scontrato con alcuni agenti shield ma poi giusto e per già che è il vestito credo di aver trovato qualcosa che ti urli ma studiore di te è parecchio stretto attenta alla testa aspetta ti aiuto grazie c'è una radura più avanti l'ingresso dovrebbe essere lì ok quindi jarvis che aspetto a come un vecchio hard disk del 1998 ok altra domanda chi aspetto a un hard disk del 1998 oddio wow non ci sono posti simili a jersey city è bello tranquillo si è passato di tempo toni mi lasciava venire qui era un luogo in cui potevo calmarmi o spaccare cose lo vedo quindi intanto mando faccio merenda che ha trovato che cosa bingo ma indicato devo tornare indietro finalmente vuol dire che siamo vicini cavolo è sigillata andate in un'unità di contenimento corri 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 pensai che ho diventato pih ahah che significa insolitamente potente Si mette male, molto male. Merda. L'ho usata nel momento sbagliato, l'ho usata. Lui mi preoccupa. L'ho usata nel momento sbagliato. L'ho usata nel momento sbagliato, l'ho usata nel momento sbagliato. Spero che tu abbia portato dei vestiti di ricambio. Sei buono. Vedo dal tuo silenzio che non ti fa ridere. D'accordo, credo che neanche a Bruce piacciano le mie battute. Ok, non menzionerò il tizio con gli occhiali. Oh, stava lì. Come l'ha avverta. Cos'è? Oh, merda. hai ragione non sembrano temporanei tutto bene siamo a posto credo ma i.m. non era appena arrivata si sono stabiliti qui dobbiamo trovare jarvis e andarcene grazie mille per la compagnia anton grazie mille è sempre un piacere averti nella stream quando avremo finito mi farò una bella doccia quello deve essere l'archivio là davanti questo posto è controllato dalla i.m. il signor stark è ancora qui ma ce l'ho chi storti già potrei passare dai condotti a dare sì o anche così a.m. ovunque tu distrai lì io cerco un ingresso hanno guardi ovunque potrebbe essere una pessima idea guarda stanno chiudendo tutto sono entrata questi condotti sono enormi sembra che la.m. abbia costruito intorno all'archivio originale è tutto nuovo grosso gruppo diretto all'ascensore a.m. abbia costruito intorno all'archivio a.m. abbia costruito intorno all'archivio a.m. abbia costruito intorno all'archivio bene e belle le fronte di questi individui ma ci è mancato poco mi hanno quasi vista ma hi Sì, sì. Eh, spostatevi dai! Sì, sì. 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 Sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Ancora. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Allora. Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì. Sì, dai. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Ok, non me lo faccio prendere Wow Minchia quanto è stato difficile raga, ve lo giuro Si è incazzato Hulk raga Si è incazzato, ragazzi Ma è morto Ehi, dove ci troviamo? Giusto, parlo da sola Ah, beh, allora sei libera di renderla un po' più accogliente Oh, grazie Sì Stai bene, è strano Sei silenziosa Sì, non è niente Ok Ok Bene, allora Sì Se fosse vero Scusa, la cosa? La cura E se funzionasse Sembra tutto vero, ma... E se potessi tornare normale? Beh, sai Non... Non funziona così Beh, li hai visti? Sembra che faccia davvero male, ma... Ma forse ne vale la pena Kamala... Non sono mai stata accettata Voglio dire I supereroi erano il mio mondo e... Credevo che... Se avessi vinto quel concorso di fanfiction, sai, forse tutto sarebbe stato... Non importa Guardami Sono un mostro Oh, non sei un... Quello che hai fatto Ehi Ben fatto, Kamala Non è stata affatto imbarazzante No Ma ora ho una mia stanza sulla chimera Sta succedendo davvero Molto meglio Mi chiedo chi abitasse qui prima Questo posto è pieno di roba Credo che lo usassero come magazzino o qualcosa di simile Scommetto che la vista era incredibile con la nave in volo Forse il signor Stark potrebbe ripararla Eh, che devo fare? Scusami, ma andate... Ok Devo parlare con Bruce Oppure potrei scoprire qualcos'altro Ora che le porte funzionano Per dargli il tempo di dimenticare che mi ha visto piangere Oh, te sei svegliato presto, te sei svegliato, eh La stanza di Bruce Sembra che Hulk non l'abbia toccata È tutto in ordine Oppure Bruce è un lampo a pulire Perchè qui non mi fa entrare? Questa è la torre Allora Che dici cucciolo? Ti sei appena svegliato? Ah Allora, allora, allora Perchè me lo segna? Al nove Ah, ok Sul difensivo Ok Ah, devo scegliere praticamente Ok Otto, cinque Nove Ok, nove Perfetto Ho fatto due Non me lo fa mettere E che hai fatto fino adesso? 1400 Ma chi vede un culo? Ma chi vi lascia i soldi? Come su? Oh Sono proprio maleducato, serio Spero che questa macchina del sangue Possa dirmi di più sui miei poteri Ok Ma poi tutti questi braccialetti che ci devo fare, scusa? Dovremmo coltivare qualche pianta utile Basilico Timo Magari un po' di origano Sei con la tua ragazza Ma no Oh Ultimamente Eh Non ci stai più? Cos'è questa roba? Guarda che c'è lì di con la ragazza tua Diggielo Almeno non mi stava già ascoltando Fammi entrare pezzo di merda Porca miseria Non mi fa entrare in nessuna parte Ehi Bruce Mi spiace per Non preoccuparti Lo capisco Hai avuto fortuna con tu sei chi? Tempismo perfetto Stavo giusto per controllare Puoi darmi una mano dall'altra parte? Premi quel pulsante Quale pulsante? Zio Ho facciato subito Ce l'abbiamo fatta Il super computer Fighissimo di Tony Stark Sono solo un sistema molto intelligente È un piacere conoscerla Signorina Khan Ma puoi chiamarmi Kamala Signorina Kamala Che succede? Il tavolo strategico Non riceve abbastanza energia Il sistema è in blocco d'emergenza Sembra che abbia fatto scattare I sensori di sicurezza Quando erano Oratorio Dovremmo disattivarli Ci penso io Ok Bruce Cosa devo cercare? D'accordo Devi usare la console nel laboratorio Per disattivare i sensori Ups Credo di aver peggiorato le cose Nessun problema Dovrai solo disattivare manualmente I sensori di sicurezza Cerca Le lucine rosse Come diavolo faccio a raggiungerle? Davvero? Oh, giusto Braccia allungabili E una Ok E' facile Sai In una delle mie storie Iron Man doveva sparare i lampioni Per coprire l'infiltrazione di Black Widow In una base dell'Hydra Ah ah Magnifico Non credevo che fosse una cosa D'accordo Ce l'hai fatta Wuhu Torna qui Ci sei quasi, ragazza Bel lavoro, Kamala Jarvis, troviamo Tony Jarvis? Sto controllando Aspetti Qualcosa Non va Dottor Banner Non promette bene Oh, accidenti Sembra che il mio collegamento neurale si sia danneggiato nello schianto della chimera È una tecnologia dello SHIELD Senza di esso non posso accedere al database globale Lo SHIELD Chiamiamo Maria Maria Hill È lei a capo dello SHIELD ora Più o meno Questa perché si muove sempre? Il direttore Fiori Hill è l'unica che conosco di cui possiamo fidarci Bruce È bello rivederti Dopo il mio incontro con Alcone Non sapevo se avrei più avuto conti Sì, mi dispiace Ulca ha avuto alcuni problemi Non devi scusarti Tutte le nostre vite sono crollate a pezzi quel giorno Sono felice di rivedere gli Avengers in azione Beh, non proprio Ciao Sono Kamala Khan Siamo solo noi due per ora Stiamo cercando il signor Stark Ci serve un collegamento neurale Dovrete pur averne uno da qualche parte Tutte le nostre risorse sono state sequestrate dall'AIM E buona parte degli agenti si sono nascosti Però potrei sapere dove cercare Vi mando le coordinate al tavolo strategico Vi spiegherò durante il viaggio Devo accendere i motori del Queen Jet, signore Ah Quali Queen Jet? Usi il tavolo strategico per impostare la destinazione del Queen Jet per la prossima missione Le coordinate fornite dal comandante Hill portano a una struttura nella tundra Ho segnato la posizione sul tavolo strategico Le missioni importanti per proseguire con l'indagine sull'AIM Sono contraddistinte dalla A di Avengers Pensavo fosse appropriato Alcune missioni la metteranno davanti a nemici con poteri speciali e modificatori Sarebbe consigliabile dare un'occhiata ai modificatori della missione E preparare un equipaggiamento adeguato Le forze AIM in questa regione usano delle armi Avengers Equipaggiando delle protezioni contro il freddo Cazzo di like Maggiori possibilità di successo Sapevi che è sempre stato qui? Assolutamente no Io credo che volessi solo farti un viaggetto in camper No 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 Molto molto figo, Dodo Molto molto figo Non avrò disponibile Molto avrò disponibile Selezionato per il registro degli eroi Ok, chiudi Allora Selezionato per il registro degli eroi Compagno Ah, ok Si, voglio lei, però Ok Deposito Si, diciamo di si, dai La statica mi sto chiudo un poco Questo cosa 13 A posto La mia visione Andiamo Che fai Te ne ha fatto partire su code Ok, Hulk Dobbiamo trovare quel collegamento neurale Forse il signor Stark potrà recuperare altri video sulla sorte di K Almeno lo spero Vi darò accesso alla frequenza sicura Allora, impostazioni Normale Dovrebbe condurvi al bunker Aspetta Ci sono delle interferenze Qualcosa sta bloccando il localizzatore Scoprite cosa D'accordo Tieni d'occhio Kamala La i**a non ha trovato il bunker Comandante Hill Pronto La radio non funziona Da ora siamo da soli Non temete Vi guiderò io verso i loro jumper Lassù È una navetta IM Il disturbo dovrebbe provenire da questa zona Tieni gli occhi aperti Ho sentito È davvero un bel posto qui Posso registrare lo scenario per dopo Giusto, scusa Devo concentrarmi No Non Vanno B Sì. Stai calmo, computer. Mi chiedo cosa ci sia dentro quell'edificio dell'AIM. Se è curiosa, dovrebbe esserci un meccanismo esterno di chiusura per aprire le porte. Giusto, come un interruttore. Vuoi dare un'occhiata, Hulk? È solo un graffio. È arrivata l'AIM! Oh oh, vedo dei cattivoni! Come faccio ad entrare entro sta stanza di merda, io? E la porta è aperta! Ottimo, vediamo cosa c'è dentro. Ottimo, vediamo cosa c'è dentro. Possiamo affrontarli! Avanti! Ottimo, vediamo. So, ciao! Che è successo? Per rompere il disturbo. Sto provando a migliorare il segnale. Rimanete nei pressi del nodo di sicurezza. Come va, Jarvis? Sto facendo progressi. Tenete le forze IM lontane dal nodo di sicurezza, per favore. Dai Hulk, fai il tuo dovere, Hulk! Ho quasi il controllo del nodo di sicurezza. Solo un attimo. E tu me rotta il cazzo? Eh, vai, via! Grande Hulk! 99! Dovete sconfiggere quei nemici. Ok. L'importante è che l'abbiamo fatto. Tu, muori. Ora dovremmo ricevere il segnale. Forte chiaro. Il localizzatore vi guiderà al bunker dello shield. Seguire il bip, d'accordo. Non c'è modo di parlare con il comandante, il vero. Non devo farmi prendere dal panico. Mettiamoci al riparo dal freddo, Hulk. Aspetta, ma... Tu senti freddo? Dati inconcludenti. Trovare questo bunker dello shield è più difficile del previsto. Siamo vicini. Vedi qualcosa? Credo sia questo. Ben fatto. Speriamo che il collegamento neurale sia all'interno. Ti rimetteremo in sesto in un attimo, Jarvis. Grazie. È piuttosto spiacevole non avere accesso istantaneo a tutte le informazioni dell'universo noto. Come ci si sente? Non avere un collegamento, intendo. È come perdere la memoria. Non so quale sia l'equivalente umano, ma presumo sia come restare chiusi fuori da una biblioteca. Oh, come quando Ammi spegni il Wi-Fi. Più o meno. Wow, guarda quanta roba. Dovremmo darci da fare. Andere. Andere. Il collegamento neurale è vicino Forte Oh, che succede? Credo si sia attivato un sistema di sicurezza segreto dello shield Avengers rilevati Sarà le Avengers, quanto tempo Nick Fury Mamma mia, si state assoltando È accaduto il peggio La mia fine E ho bisogno di voi ora più che mai Lo shield poteva crollare Ho fatto sì che potesse rialzarsi Questo è il protocollo shield Lo shield è fatto per proteggere il mondo In tempi come questi, quando sembra sia la fine Che dobbiamo davvero farci forza Vi chiedo un favore Consegnate il protocollo a uno dei sottodirettori Così che lo shield venga ricostruito Buona foto con la legge Fury chiude Quello era Il direttore Fury Il direttore Fury dello shield Il protocollo deve essere qui dentro Wow L'assenza del tesoro Su questo cosa quasi si può si muovere Una cosa del genere Io un po' se c'ho ragione Non ce l'ho affatto vedere Proteggete il collegamento Devono avervi seguiti Credo di poter inviare il protocollo a un server sicuro Dobbiamo inviare questi dati alla chimera Credi che potremmo trattenervi? Questo è lo spirito giusto E' mortaci vostro Grande Hulk Mi c'è giusto C'ho il braccio a pezzi da stamattina A fare queste cazzo di cose Missione completata ragazzi Vabbè 4-5-5 ho fatto E' buono Il direttore Fiori Abbiamo trovato più di quanto ci aspettassimo eh Jarvis Sarà meglio riportare tutta la chimera Sto calcolando il percorso Allora abilità Andiamola a vedere Minchia ma un solo oggettone Ma da dove è veramente brutta come cosa Attacco leggero Attacco pesante Distanza Forse questa qua la dovevo fare Poi Vediamo un po' Minchia livello 20 ragazzi siamo arrivati Livello 22 Ecco questo è probabilmente più Ok Difensivo Livello 20 Eroico Un livello 17 Confrotto al 14 Questo è il 19 Mischia 21 No va bene questo Dai Però perchè me lo dà ancora Niente è meglio questo qua Allora Io direi di andare a provare Il multiplayer Il multiplayer ragazzi Di questo gioco Abbiamo fatto Quasi 4 ore di storia Allora No ma tutti gli eroi Andiamo a vedere il multiplayer Questo qui dovrebbe essere il multiplayer Vediamo un po' Quello che succede Vi giuro ragazzi Il gioco è stancante Cioè vi stanca proprio Che voi Non vedo l'ora di tornare in missione La chimera è bellissima Ma qui dentro sto cominciando a dare i numeri E mi dispiace Questa tor La sala arm è utilissima Soprattutto di notte Quando non riesco a smettere di pensare Voila fa colo Ehi Tony Verremo sconfitti spesso Nella nostra lotta contro la I.M Sappi che ci sarò sempre Non è vero Bugiardo Ma il film fa tutto da solo Ah Stark Scriveranno canzoni Sui nostri trionfi Senza dubbio Schizzeranno in cima Alle classifiche Ah qui evidenti Posso entrare su tutte le stanze Mentre l'altra parte Non potevo entrarci Carina Eh no Uno di questi giorni Non potevo entrarci Non potevo andare in cima Non potevo entrarci Non potevo entrarci Non potevo entrarci Ma le classifiche Non potevo entrarci Non potevo entrarci in caso l'avesse dimenticato la sala arm si trova scendendo dalle scale attraverso le porte e poi a destra grazie per queste indicazioni accurate e assolutamente superiore Jarvis cioè che cos'è questa scusa? ehi amico mi hanno detto che hai preparato la sala arm per me oh giusto si sei davvero molto educato e gentile amico grazie nella sala arm metterai alla prova le tue capacità in un ambiente controllato dall'olografic augmented reality machine di Stark completa l'addestramento arm per ottenere importanti abilità e tecniche poi completa le sfide arm per sfoggiarle una volta completata la serie di sfide arm sbloccherai attività giornaliere che ti ricompenseranno con dei fumetti ok se vuoi essere un po' creativo l'agente Wu ha sviluppato un programma per personalizzare la sala arm secondo le tue specifiche la sala arm personalizzata e le altre attività arm che non ti piacciono gli avengers allora ti sei mai cercavo il multiplayer però mi sono fatto quasi quattro ore di storia in operazioni e per la precisione sono 500 e passa però negozio senti che fai diciamo io allora i crediti non funzionano più a partire dal 31 marzo e io non c'ho il telefono non c'ho più il telefono quindi io non posso scannerizzare sto profilo dai che palle però ho avuto una partita nooo che fai lei porco tu Ciri non ho mai fatto una cazzo di storia così tanto pesante dai ti ho fatto partita a coda dai questo livello è l'1.5 e se ne va mio Dio non c'ho più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vabbè, prima o poi entrerai... Ma vuoi entrare su Discord? Ma dove stai? Bad! Ma senti che casino... E dai, sbrigati! E lascia sta live aperta, fammi prendere un po' qualche minuto di visualizzazione. Stamattina, Avengers, non è che ha fatto grandi numeri. Mi aspettavo il contrario. Mettai su Discord, dai! Dai un po' aperto, dai! Ma questa l'ho completata. Eh, ma se non lo hai detto ce l'hai qualche problema, eh? Se l'ho detto ce l'hai qualche problema? Ma senti che musica e merda si ascoltava. Ma che... Ma che cazzo... Un po' aperto... Un po' aperto... Un po' aperto... Un po' aperto... Grazie. Buongiorno. Sentivo, sentivo. Eh, eh, lascia la live aperta, se io mi fai via qualche minuto di visualizzazione, vai, vai. Ah, quando ce sto io, vai, mi fai... Ma certo, che faccio? Non te le chiedo? Oh! Non ci sta pure molto. Non ci sta fatti, chiavolo, va. È un messaggio brutto. Per quanto finisce... Sì, che sta, ricazzo? Che c... che vuoi? Oh, tra 19 giorni finisce... la season. Ah, no. Poi io cuccio lo start-up, però, dai. Nel frattempo. Buono questo, cazzo, il tacchino. Buono? Eh, il prodotto del tacchino voglio olive. Buono? Oh, ma rovinato sto cazzo del gioco. Te lo giuro. Che sta rovinando? Oh, ma... L'energia è proprio, te lo giuro. Ma è prosciugato. Ma è un gioccio? Porca miseria, oh. Tosto? No, tosto no, però, capite, è intenso. Cioè, non... Oh, pur vero che sto svegliato alle 4, però... Anzi, 4 o meno 10. Cazzo, non so, svegliato alle 4. E non mi so più addormentato. Bello. Guarda, guarda, ho trovato un bel settantino, ho trovato un gioco dell'MP7. Fai vedere anche. Non... Gioco lo, in realtà. Però dopo... Io ancora lo devo trovare. Lo devo provare. Quindi, bo... Ehi, ragazzi. Allò? No, loro non parlano. Ci hanno mutati. Eh... Beh, potremmo farcela, dai. Sombravia? Sì, dici. Oro 2 al 15, 16, platino 1 al 26. Giocano. Vabbè, io perché... C'è postazione. Ma pure io... Pure io ero platino a... A poco, poi... Non è rimasto. O stazione. Sto sceso, sono risalito. Catturate l'area bersaglio per vincere. Oh. Personnale, scelta la scelta azione. Dovessi come giocato? Del mestiere? Eh... Più che altro, più che del mestiere... Mi devo riabituo a giocare con... Stiamo in passaggio! Stanno a push up. Sotto. Mi restunno, no? Eh, va bene. Ma che fanno questi? Non ho capito. Guarda, giù, una rimbazzella. All'all. Arrivano da sinistra. Eh, l'ho visti. Prontima postazione imminente. Ok, ma... Next, next, next. Vieni next. Vieni next. Alla, alla. Abbiamo perso il comando. Alla, 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 alla. Ok, dietro. Ok, dietro. Uno, arrivano. Arriva uno, ce l'ha i top loro. Minchia, ma vedevo... Vedevo il pallino blu dell'alleato, bro. Liberatela. Il pallino blu dell'alleato. Il pallino blu. Alla, la tocca di zia. Ho il pallino blu. Ne vedi nel perimetro. Bastardo. Cioè, c'hanno un secondo Uh, lui c'ha un secondo di vado next Ricerca della prossima postazione Personale nemico alla postazione Wow C'è un cicana kill Importante prendere la postazione 1 Diro lo stato Wow Wow Arriba da Questo è proprio un co***o Mi ha ucciso l'alleato Mi ha ucciso Andiamo ad un next Vai andiamo ad un conto Andiamo ad un conto Faccio uno No, non ce l'ho tutti qua Ricerca postazione non è stato pronti Faccio una giornata Conquistate la postazione Sto sopra Risolta la postazione Non è stato pronti Non si può giocare Non sono proprio capacità No ma non sembra Non può capace giocare a Kod ricerca della prossima portazione preparatevi se è fatto favore lui ce l'ho mandato io one shot stazione spostata conquistate l'area bersaglio nemici nel perimetro i nemici hanno lanciato un missile cruso c'è uno che arrivava i nemici hanno lanciato un missile cruso i nemici hanno lanciato un missile cruso i nemici hanno lanciato un missile cruso il missile lanciato qui dietro davanti davanti al mirino no no non ce l'avevo a te no no non ce l'avevo a te si no ti so dire me li faccio tutte e due solo che c'è stato davanti al mirino eh scusa i nemici ricerca postazione state pronti uno top c'è le sopra gara c'è la camion si ha fatto l'ho fatto uno sotto trovare posizione giornella potete guarda dovevevo guarda indietro io guarda dovevo guarda indietro io guarda dovevo guarda indietro io ha fatto a me a lui contendi pezzo di merda contendi guarda ma ho già lo spawn ah no ok beh infatti sono andato qua da dentro arrivano questo è proprio un coglione guarda questo è proprio un coglione te lo giuro questo è proprio un coglione 1v1 1v1 mi lancia il bombardamento in testa sei proprio un nabbo sei te lo giuro su cristo è uno solo vai next è sotto si dovrebbe essere o primo sotto non mi ricordo è sotto mi sembra si dovrebbe essere sotto oh confezione giornata conquistate la postazione questo non si sa come è morto però beh adesso sopra arrivo 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 eh ma se quello non entra però vengono cristianesimo ho fatto uno che arrivava uno che entra ok non so non so non so non so non so grazie and they were playing that match rather than trying to cap easy level 26, 13 kills in 22 seconds in the song c'ha ragione cazzo minchia 46 punti ma dato ehm ahem da dove sei tu l'ho sta? oh sono diventato squaletto hai visto? sono diventato squaletto oh dai è cucciolo cucciolo è di squaletto ma vuoi stare ahem 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 il mare cazzo del pretre pianto l'ho pagato quindi non merda the pad no tanti scherzi dico no 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 non ti so di la differenza perchè non è che uno è più buono e uno dura di più quindi è quello solo quello vabbè comunque la domanda successiva era le levette quelle c'hai? quelle centrali? c'è quelle sotto proprio oppure ce l'hai come ce l'ho io aderenti ergonomiche le mie si chiamano le sole pro non te sapete quali sono ergonomiche eh escono quasi da sotto gli analogici? cioè per farti capire le distanze si si escono escono eh invece io invece ce l'ho ma io ho pure quelle dei ricambi un po' più lunghe ancora però ci ho rimesso questa qua no 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 che stesse che usa Gabriele per dirti eh la merda ma che stai rispianti? minchia sposta sto microfono oh oouu porco due cioè chi sei è un drago chiam'le anzi a porco due chiam'le c'è Marioingola chiam'le c'è la mia gola è un micchiœê veda che si deve sta giocare la madre no codicchio è stato riscale con noi ma annaG canceled si si pure a poo agianzi aprivate subito no puliamo ibex via pure puliamo ibex alla fine tutte e due is anxiety man adesso capace pure a fare così qua la mano non ti preoccupa guarda la mia notte sto microfono porco due non è mutato l'ho smutato perché ci volevo parlare che roba è postazione mannaggia prendo io dopo prendo io dopo coprimi top siamo in vantaggio noi vedo salire vedo il top mio non ti preoccupare what vabbè ma comunque gli spawn non possono essere così la gente spawn sullo stesso punto nostro ma che cazzo è non ti preoccupare dai vado next io già ci ho fatto prossima postazione imminente state tutti mani veloci in funzione che drai già stanno afferendo la rotazione ma che cazzo ma che cazzo sei qui che cazzo fai ma che cazzo fai che cazzo fai chissà un coglione ho messo un washington ho messo un washington ho messo un washington e lo giro su cristo ho capito ma sono passati 30 secondi finché quello da sparare abbiamo perso il comando ci stavo uscito almeno è mai dato la botta che devo fare audio vado a contende eh però minchia però mi serve una mano cioè mi serve una mano 0 secondi ciao 0 secondi in postazione ma tu guarda che porco dio di gente eh guarda vabbè se vuoi non fa bene abbiamo un ex postazione spostata conquistatela in postaglio ho preso l'ultimo colpo guarda mica mi smuta su sto pezzo di merda guarda la ma tu guarda perché chi cazzo tocca a perde 0 secondi in postazione alla quinta postazione oh my god silence 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 sei un hub sei un hub come si dice 0 0 no 0 0 seconds in postazione shut up shut up tu 0 0 0 0 secondi oh my god fucking munich ma stai zitto e cosa bad profi raggiungete la postazione orice 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 si che è anche a guardare la postazione eh finchia però vabbè tutti e due one shot stiamo perdendo terreno prossima postazione imminente state pronti no e quelli non entro quante è troppo tardi guarda dove stanno ma perché non entro in postazione stessa fa 50 kill dice ok non li fanno tre impostazioni cioè stare pure guarda dove è non c'è più colpi non c'è più che colpi non c'è più che colpi non c'è più che colpi 3 secondi ok vabbè arriva uno dalle palme 1 2 postazione vabbè io ho sparato solo in testa io ho sparato e questo è persa bad perché uno uno oh ma sei proprio scarso sei sei la persona più scarse sulla faccia della terra cambia gioco tubex change the game change change stazione spostata conquistate l'aria bersaglio eh per spacca il trophy per terra bravo guarda guarda next dai dai porco di bravi liberatela vabbè l'hanno vinta dai è uscito è uscito è uscito guarda guarda quello sdriviato è andato è andato è tocca entrate però entrate entrate abbiamo perso non ci fanno manca arrivata mannaggia missione compromessa è finita gg gg ibex è un nabbo è un nabbo ibex è un nabbo ibex è un nabbo e la